il candido di voltaire capitolo 12 il seguito delle sciagure della vecchia fra lo stordimento il contento a udire il linguaggio della mia patria e non meno stupita delle parole che proferiva colui gli risposi che vi erano delle disgrazie maggiori di quella di cui lamentavasi gli strussi in poche parole delle cose orribili da me sofferte e caddi in svenimento mi trasportò egli in una casa vicina mi fece mettere a letto mi fece dar da mangiare mi servì mi consolò mi accarezzò mi disse di non aver mai veduta beltà maggiore della mia io sono nato a napoli mi disse gli vi si accapponano tutti gli anni due o tre mila ragazzi e altri ne muoiono altri acquistano una voce più bella di quella delle donne e altri vanno a governare degli stati mi fu fatta questa operazione con grandissimo successo e sono stato virtuoso della cappella della principessa di palestina beh di mia madre esclamai di vostra madre esclamò egli piangendo ma come ma sareste voi quella giovine principessa che io ho allevata fino all'età di sei anni e che prometteva fin da allora di dover riuscire quella bellezza che voi siete io sono quella stessa mia madre è lontana di qui 400 passi sbronata in quarti sotto un monte di morti gli contai tutto quel che mi era accaduto egli mi narrò finalmente le sue avventure e mi disse come egli era stato inviato al re di marocco da una potenza cristiana per concludere con quel monarca un trattato in virtù del quale gli si somministrerebbe polvere cannoni e bastimenti per aiutarlo a sterminare il commercio degli altri cristiani la mia commissione è eseguita continuò quell'onorato eunuco io devo imbarcarmi a ceuta e di là ricondurvi in italia io lo ringraziai con lacrime di tenerezza egli invece di condurmi in italia mi menò ad algeri e mi vendè al dei di quella provincia e appena fui venduta quella pestilenza che ha fatto il giro dell'africa dell'asia e dell'europa si scatenò furiosamente in algeri beh voi avete udito il terremoto ma non avete mai signorina mia provata la peste se provata l'aveste confessereste che la è ben qualcosa di più che un terremoto e lei comunissima in africa ed io ne restai infetta o figuratevi qual condizione per una figlia di papa in età di 15 anni che in tre mesi di tempo aveva provata la povertà la schiavitù aveva veduto spaccare in quarti la madre aveva provata la fame e la guerra e se ne moriva appestata in algeri io però ne scampai ma il dei quasi tutto il serraglio ad algeri peri passata la prima furia di questa orribile pestilenza si venderono le schiave del dei un mercante mi comprò e mi condusse a tunisi mi vendè egli a un altro mercante che mi rivende a tripoli e da tripoli fui rivenduta ad alessandria da alessandria a smirne da smirne a costantinopoli e toccai finalmente ad una ga dei giannizzeri che bebbe in tosto il comando di andare a difendere asaf contro i russi che la sediavano la ga che era un onestissimo uomo condusse seco tutto il suo serraglio e ci dè quartiere in una fortezza sulla palude meotide sotto la guardia di due unuchi e di venti soldati fu ucciso un numero prodigioso di russi ma essi si presero ben la rivincita asaf fu messo a ferro e fuoco e non si risparmiò né sesso né età non vi restò che la nostra piccola fortezza e i nemici pensarono di prenderci con l'affamarci i venti giannizzeri si erano impegnati con giuramento di non arrendersi mai e l'estremità della fame a cui furono ridotti li costrinse a mangiarsi i nostri due unuchi per timore di violare il giuramento e a capo di pochi giorni risolverono di mangiarsi le donne avevamo un pio in mano molto compassionivole che fe loro un bellissimo sermone per persuaderli a non ucciderci affatto tagliate disse lì solamente una parte carnusa per una a queste signore e avrete da salare se sarà necessario ritornarci un'altra volta fra pochi giorni ne avrete altrettanto il cielo vi saprà buon grado d'un'azione si caritatevole e voi ne sarete soccorsi e siccome era molto eloquente li persuase ci fu fatta quest'orribile operazione e limano ci applicò lì stesso balsamo che si adopra i bambini dopo la circoncisione noi eravamo tutte per morire appena avevano i giannizzeri terminato il pasto che noi imbandito loro avemmo eccoti su dei battelli piatti arrivare i russi e neppure un giannizzeri si salvò i russi non badarono punto allo stato in cui ci trovavamo vi sono dappertutto dei chirurghi francesi uno di questi molto bravo prese cura di noi e ci guarì ci disse a tutti